Euroregione.news Fiera dei Santi 2022 Rivignano Teor Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con la centenaria Fiera dei Santi di Rivignano Teor dal 29 ottobre al 2 novembre con il sindaco Mario Anzil Abbiamo appena terminato gli sforzi per l'organizzazione di questa grande festa per l'inaugurazione della piazza Nuova Agorà del Friuli oltre 3.000 persone hanno assistito a 12 ore di musica culminate col concerto gratuito di Roberto Vecchioni e siamo tutti presi, appena finito questo, nell'organizzazione della Fiera dei Santi che a cavallo tra fine ottobre e i primi giorni di novembre da migliaia di anni si svolge sempre nelle piazze, nelle vie centrali del paese Beh, qualcuno potrebbe dire, voi là a Rivignano Teor vi occupate solo di feste anziché di cose più importanti in realtà non è così, non sono cose di seconda importanza queste feste ma sono strategiche per più ragioni uno perché in una società come questa dove abbiamo perso il valore dei principi importanti come l'amicizia stare assieme, fare festa assieme è invece la cosa più bella che si possa fare e poi anche perché queste fiere, queste feste in realtà sono un enorme volano per lo sviluppo del turismo, del commercio, dell'artigianato del nostro paese coniughiamo la cultura, la tradizione, la riscoperta delle nostre storie proprio con un'opportunità economica e quindi molto volentieri noi ci dedichiamo all'organizzazione della Fiera dei Santi mi raccomando inizia il 29 ottobre, sabato e finirà mercoledì 2 novembre da mille anni una magia si rinnova ogni sera nelle piazze del paese di Rivignano da Rivignano Teor, Marco Mascioli euroregione.news